In tempi di cambiamento anche profondi, la sanità marchigiana la sua svolta l'ha già approntata la scorsa estate con la ridefinizione complessiva degli assetti dell'Asur, l'azienda sanitaria unica regionale, in virtù della legge regionale 17 del 1 agosto, che ha abolito le zone, istituendo 5 aree vaste, prive però di personalità giuridica, e lo ha fatto anche con l'approvazione del piano sociosanitario 2012-2014. Ma si tratta di un piano che la ci scontesta proprio per via dell'eccessiva dipendenza dell'Asur, che di fatto continua ad esercitare una gestione complessiva totalizzante e soprattutto perché, secondo la Confederazione, il piano appare ancora poco equo nella ripartizione delle risorse che penalizzerebbero l'aspetto sociale a vantaggio di quello sanitario.